Da domenica la Liguria sarà in zona arancione, in vigore nuove restrizioni per gli spostamenti limitati al comune di residenza e le attività. Scuola superiore ancora a distanza, almeno per una settimana. Ore davanti al PC, aumentano i reati in rete, anche legati alla pedofilia. Per i genitori serve attenzione e uno sguardo attento ai ragazzi collegati in rete. Cresce l'accesso al gioco d'alzardo online. Camion contro auto, questo pomeriggio in A12, traffico bloccato per diverse ore tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. In tilt anche la viabilità ordinaria. L'ora di religione, opportunità offerta a tutti, spazio di dialogo e di incontro. C'è tempo fino al 25 gennaio per le iscrizioni a scuola e per scegliere un insegnamento che arricchisce e sostiene nella crescita. Il 2020 è stato un anno pieno per il soccorso alpino Ligure, nonostante il lockdown e le restrizioni agli spostamenti, numeri simili al 2019 per gli interventi. Da luglio a settembre il picco. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Dunque da domenica la Liguria sarà in zona arancione. Il ministro alla salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che definisce i colori delle regioni in base ai valori degli indicatori che identificano il livello di rischio. La Liguria, ha sfigato il presidente Giovanni Totti, è in arancione poiché il suo valore RT è di 1,15, anche se i dati fanno riferimento alla situazione di due settimane fa. La regione dal canto suo ha deciso che anche che il ritorno tra i banchi per gli studenti e delle superiori sarà rimandato ancora di una settimana. Proseguirà dunque la didattica a distanza. Da domenica scatteranno i nuovi provvedimenti introdotti dal decreto approvato ieri sera dal governo, con una stretta ulteriore sugli spostamenti. Facciamo il punto. Entra in vigore da domani il nuovo decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del covid, anche se gli effetti per la Liguria si faranno sentire a partire da domenica, quando la regione assumerà il colore arancione con le relative disposizioni restrittive. Oltre a prorogare fino al 30 aprile lo stato di emergenza, il provvedimento ha confermato fino al 15 febbraio il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse. Sarà possibile farlo solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e per il rientro alla propria residenza. Si inaspriscono le limitazioni agli spostamenti, che saranno limitati ad una sola volta al giorno per un massimo di due persone non conviventi. In fascia gialla sono permessi in tutta la regione, in arancione e rossa sono circoscritti al solo comune di residenza. Così come è successo nel periodo natalizio, da domenica e fino al 5 marzo, sull'intero territorio nazionale sarà consentito spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Nel conteggio non rientrano i figli minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. L'unica deroga a questo provvedimento, in fascia arancione e rossa, resta quella per gli spostamenti dai piccoli comuni, quelli fino a 5.000 abitanti. Qui sono possibili per una distanza non superiore ai 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Per tutto il periodo di durata del decreto sarà vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. Se si è residenti però in una regione in fascia arancione, sarà vietato andare nella seconda casa anche fuori dal comune. L'unica deroga riguarda i motivi di urgenza. Sulla riapertura delle scuole superiori, il DPCM prevede il ritorno in classe da lunedì, tranne in zona rossa, con presenza dal 50 al 75%, ma ogni regione continuerà a poter adottare ordinanze più restrittive. È il caso della Liguria, che ha deciso che la DAD per le superiori sarà estesa di un'altra settimana. Possibile poi anche il ritorno in aula nell'università. I divieti relativi alle attività commerciali e ai pubblici esercizi poi restano invece sostanzialmente simili rispetto alla classificazione a colori già sperimentata nelle scorse settimane. Una delle differenze sostanziali interessa il cibo da sporto. Visti gli assembramenti da Movida che continuano a verificarsi, il governo ha deciso nella fascia arancione di vietare ai bar, dopo le 18, la vendita di cibi e bevande da sporto. Sarà sempre consentita invece la consegna a domicilio. Restano chiusi gli impianti di risalita e dunque non sarà possibile praticare lo sci a meno che non si faccia a fondo in solitaria. Restano ancora chiuse le palestre e le piscine. Sarà possibile praticare sport solo all'aperto ma sempre osservando la distanza di sicurezza. Ancora fermi gli sport di squadra o di contatto. E per la scuola superiore abbiamo deciso, consultandoci con la nostra task force sanitaria, di andare avanti con la didattica a distanza ancora per una settimana proprio per mantenere i parametri in calo. Questa è la spiegazione del presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Comprendiamo l'esigenza dei ragazzi che vogliono tornare in aula, aggiunge Toti, ma crediamo sia giusto che ciò avvenga agendo con prudenza e sicurezza. E lo decidiamo, prosegue, a prescindere dal TAR che sta sospendendo nelle altre regioni le ordinanze di chiusura, frutto di una interpretazione delle competenze che andrebbe chiarita al più presto dal governo per evitare di aggiungere ulteriore confusione ad una situazione già complicata. Uno sguardo adesso alla situazione sanitaria per la giornata di oggi. Sono 254 oggi nuovi e positivi al Covid-19 in Liguria. 2.243 i tamponi antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Notizia che leggiamo sul nostro sito, teleradiopace.com. Nella Asle 4 i nuovi casi oggi sono 26. In calo in tutta la Liguria, numero degli ospedalizzati, meno 16 per un totale di 727. 59 le terapie intensive scendono di due unità ricoverati nelle strutture della Asle 4, oggi 57 di cui 5 in terapia intensiva. 10 i decessi comunicati oggi avvenuti tra il 12 e il 14 di gennaio. Prosegue anche la campagna di vaccinazione. Oggi sono stati somministrate 2.200 dosi, di cui 474 nell'Asle 4. dal 27 dicembre hanno superato quota 30.000 in tutta la Liguria. E non possiamo tollerare ancora questa situazione di incertezza continua su ogni aspetto. Serve definire una modalità che lascia un minimo di tempo per adeguare la propria organizzazione nell'evoluzione delle cose. La denuncia della CIA Liguria in merito alla comunicazione delle fasce di rischio a cui sono legate le restrizioni da adottare. Con queste modalità, che si ripetono ogni volta, gli operatori non sanno quando e come possono aprire e non capiscono se possono accettare prenotazioni o confermare l'acquisto di prodotti. Non si può operare così, denuncia dunque la Confederazione degli Agricoltori, che propone di anticipare le decisioni anche per il fine settimana successivi. Le aziende cercano di adeguare la propria offerta alle disposizioni, sfruttando ogni occasione di lavoro, ma hanno diritto di sapere in tempo, specie nei fine settimana, se possono operare o meno. E uno dei punti caldi relativi al nuovo decreto, abbiamo sentito, è la possibilità di riaprire le scuole, almeno in didattica a distanza, al 50%, soluzione chiesta da più parti. Non sarà così in Liguria per la prossima settimana, perché comunque da troppe settimane i ragazzi con la didattica a distanza trascorrono molto tempo davanti al PC e ai tablet e alcune delle conseguenze iniziano a farsi sentire. Vediamo. L'utilizzo di strumenti informatici, continuativo e massiccio, rende vulnerabili e questa è una condizione a cui tutti siamo stati sottoposti durante il lockdown. Nel corso del 2020 la Polizia delle Comunicazioni ha registrato un incremento dei reati collegati a questo massiccio utilizzo della rete. I ragazzi chiusi in casa e legati alla didattica a distanza sono stati incollati a PC e tablet molto più di prima e sia a livello nazionale che regionale si è registrato un incremento dei reati legati alla pedopornografia. I consigli che ci sentiamo di dare come Polizia di Stato sono quelli dal lato dei genitori di comunque seguire i giovani nel pergorsi che li vedono online. Quindi così come quando il nostro figlio esce di casa diciamo stai attento agli sconosciuti. Tutti questi consigli devono essere necessariamente traslati alla vita online. Attenzione perché online chiunque può dire di essere chiunque. Guardate che la maggior parte delle condotte che vedono un utente della rete vittima parte da questo presupposto che chi sta utilizzando internet in maniera fraudolenta impersonifica un'altra persona, un'altra entità e così facendo va ad ingannare un utente. I pedofili fruttano questa possibilità e quindi fanno finta di essere magari un coetaneo di nostro figlio e così facendo ne capiscono la fiducia con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. Questo è sicuramente un tema molto importante. L'altro che lei accennava è quello l'accesso alle piattaforme di gioco online. Nel momento in cui non si può uscire di casa per fare tutte quelle attività che eravamo abituati a fare, cerchiamo conforto nel continuare questo tipo di attività nel mondo digitale e quindi indubbiamente sono incrementate sia i giochi classici, come dire, il gaming classico online, ma sono incrementati anche il gioco d'azzardo online. Quindi con tutte le conseguenze che possiamo immaginare anche in termini di ludopatia. La cronaca adesso con il traffico è previsto a minuti in serata. La riapertura al traffico del tratto della A12 tra Recco e Rapallo in direzione Livorno dove questo pomeriggio intorno alle 15.30 si è verificato un incidente tra un camion e un'auto. Il bilancio di questo parla di quattro persone ferite in modo non grave. Due hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre le altre due sono state trasferite dal pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati e fronteggiare un'abbondante fuoriuscita di gasolio dal mezzo pesante che si è riversato sulla carreggiata e lo sversamento ha interessato anche l'area sottostante. Il viadotto qui sono intervenuti i pompieri di Rapallo. All'interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato per ore e si sono registrati diversi chilometri di coda. Coda anche all'uscita del casello di Recco dove era appunto obbligatoria l'uscita. Il traffico è stato riversato sulla viabilità ordinaria. È andata in crisi anche questa con lunghe code di mezzi che costretti ad uscire dal casello di Recco hanno percorso l'Aurelia, ha dovuto percorrere l'Aurelia per rientrare in A12. Sul posto sono stati presenti anche i tecnici della direzione Primo Tronco di Genova e la Polizia Stradale. Primo sopralluogo a Sestri Levante per individuare un sito idoneo ad ospitare una piattaforma di atterraggio per l'elissoccorso. L'area in questione è la pista per elicotteri all'imbocatura di via per Santa Vittoria la quale sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa europea in materia di operazioni di volo. La nuova base, in caso di idoneità, potrebbe implementare il servizio di emergenza sanitaria di elissoccorso notturno che sarà attivato presso la base operativa di Villanova dal Venga. La pagina diocesana adesso. In queste settimane alcuni sacerdoti della diocesi prendono possesso delle comunità loro affidate dal vescovo. Domani alle 15 Don Andrea Borinato si insidierà nella parrocchia di San Pietro di Barassi a Lavagna diventando un parroco. Domenica 17 gennaio Don Daniele Berogno prenderà possesso invece delle comunità di Caregli, Brizolara, Acero, Belpiano e Temossi. Qui nella parrocchia di Santa Maria Assunta celebrerà l'Eucarestia alle 15. Don Daniele, che mantiene le parrocchie di Borzonasca, Levaggi e Prato supera la croce, sarà coadiuvato dal diacono Enrico Devoto e da Don Pino Previtera. Don Andrea e Don Daniele saranno accompagnati da Don Stefano Mazzini. E c'è tempo fino al 25 gennaio per iscrivere i propri figli al primo anno di ogni ciclo di istruzione e in questa fase viene proposta la scelta di avalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Ascoltiamo la testimonianza di due giovani insegnanti di religione attivi nel nostro territorio. Sentiamo. L'ora di religione non è un'ora per i cristiani o per i ragazzi del catechismo ma è un'ora accessibile a tutti. L'ora di religione è un'opportunità offerta a tutti e non è detto che per partecipare si debba essere credenti. Non per forza l'appartenere a diverse confessioni deve essere un ostacolo ma anzi io ho notato che diventa sempre un momento arricchente di confronto anche, come dire, danno tanti spunti di riflessione questi ragazzi. Chiara insegna religione a 18 classi di scuola media fra Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Suo marito Mattia ha a sua volta 18 classi fra le medie di Gattorna, quelle di San Salvatore e Lipsia di Chiavari. Riesco ad avere l'opportunità anche nella singola ora settimanale di incontrare i ragazzi, di intercettare un po' le loro domande, di instaurare un dialogo che in altre materie non è possibile forse. E quindi è innanzitutto un'ora per i ragazzi, per davvero ascoltare delle parole buone innanzitutto per la propria vita. La loro è stata una scelta maturata nel tempo e intrapresa con determinazione ma anche con grande gioia. Ho avuto persone all'interno delle scuole che ho frequentato che in qualche modo mi hanno fatto apprezzare l'ora di religione. Per diventare insegnanti di religione occorre frequentare l'Istituto di Scienze Religiose di Genova anche nelle sue sedi distaccate e oggi con lezioni online. Prima di tutto è stato un momento di approfondimento per me, così come l'aver a che fare con docenti che a loro volta insegnano da più tempo e quindi sono stati dei veri e propri maestri. Nella pandemia gli insegnanti di religione per effetto della riorganizzazione complessiva delle materie e degli orari hanno potuto incontrare anche ragazzi che normalmente non si avvalgono di questo insegnamento. È stato un arricchimento importante per me ma più che altro penso per tutta la classe, per tutti i loro compagni perché probabilmente per il fatto di non aver mai fatto religione sono i ragazzi che pongono più domande, più interrogativi. Ma non è insolito che anche studenti e studentesse non credenti o appartenenti ad altre confessioni religiose, cristiane e non, decidano di partecipare. Chi li ascolta ne esce arricchito e incuriosito, ecco, quindi veramente l'ora di religione è un qualcosa che può essere per tutti proprio perché è luogo di confronto e dialogo. Ancora cronaca, un 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Chiavari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli. L'uomo originario del capoluogo campano era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Dovrà scontare 10 mesi di reclusione per reati contro la persona, il patrimonio e violazione delle norme in materia di sostanze superfacenti. La politica amministrativa procede il progetto di riqualificazione dell'area esterna via Don Minzoni a Rapallo. Questa mattina si è svolta una riunione preliminare per definire le modalità di attuazione del piano. Attualmente sul sito esiste un campo da basket adibito a pista di pattinaggio. L'idea sarebbe quella di realizzare un'area ludico-sportiva multifunzionale costituita da uno skate park, da una pista di patinaggio e da una parete per arrampicata. Le modifiche alla viabilità a Chiavari per interventi sulla rete delle acque bianche. Dalle 8.30 di lunedì 18 gennaio nel tratto di via Bado Gianotto tra via Piacenza e via Gastaldi è interdetta la circolazione veicolare e sarà vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli presenti. Nello stesso orario in via Piacenza sarà in vigore il senso unico con direzione Mare-Monte nel tratto adiacente a via Bado Gianotto. L'intervento riguarda la rete che raccoglie l'acqua piovana e consiste nella deviazione di un tubo che occlude il transito nella condotta principale. Abbiamo visto proprio la foto dell'intervento, della zona dell'intervento. Un tavolo regionale che coinvolgerà tutti i 234 comuni liguri in progetti di riqualificazione urbana lo ha annunciato l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola che si occuperà di presiedere i lavori. Gli obiettivi sono riqualificare i centri storici, ribatilizzare l'entroterra e le periferie e favorire il miglioramento della qualità ambientale del territorio. Torniamo adesso sul nostro sito per leggere una notizia di agricoltura. È stato aperto un bando regionale per sostenere il settore dell'apicoltura. Verranno stanziati 76 mila euro destinati all'acquisto di arnie, presidi sanitari, api, regine e sciami. Attrezzature poi come smielatori, maturatori del miele e bilance. Le domande per accedere a questi bandi potranno essere presentate sino al 10 di marzo. Gli interventi vanno ultimati entro il 22 giugno del 2021. Parliamo adesso del soccorso alpino della Liguria. L'attività ha presentato dati relativi al 2020, un anno che nonostante le restrizioni per contenere l'epidemia, ha gli avisti molto attivi sul territorio e in particolare nel nostro Levante. Vediamo. Pensavano che sarebbero stati mesi di riposo con il lockdown e le restrizioni agli spostamenti. Invece il 2020 è stato un anno pieno per il soccorso alpino della Liguria, con 328 interventi, solo 10 in meno rispetto al 2019. Ad influire sono state certamente l'impossibilità di andare in vacanza all'estero e la diffidenza verso le città e i luoghi affollati, che hanno portato molte persone a prediligere escursioni e attività all'aria aperta. Da luglio a settembre è stato il periodo con più interventi, da 40 a 60 al mese. A marzo e aprile, 12 in tutto. La tipologia che è ricorsa più volte è stata quella di caduta. Cioè persone che sul sentiero, piuttosto che in parete, piuttosto che in bicicletta, sono cadute e quindi si sono causate un trauma, procurate un trauma, tale che non gli ha permesso di proseguire in autonomia la gira. Questo qui è avvenuto per più o meno 130 persone soccorse. Pertita di orientamento, in cui rientra anche la categoria dei fungaglioli, è 75 persone, 26 recuperate soccorse per incapacità e 26 soccorse per malore. La maggior parte degli interventi ha riguardato il Levante Ligure, Monti di Portofino e Cinque Terre, i luoghi più battuti. In molti casi si tratta di escursionisti equipaggiati male, che affrontano i sentieri senza la giusta attrezzatura. A volte confondiamo la facilità d'accesso con facilità di sentiero. Cioè un sentiero è un sentiero, va affrontato con rispetto, va affrontato con la giusta attrezzatura. Percorrono un sentiero con una scarpa da vela, anche se è un sentiero in pianura, tutto quello che si vuole. Però comunque non è la scarpa ideale. E quindi è più facile prendersi una storta, finire in un luco. Un anno pieno, come abbiamo già detto, per il soccorso alpino, che però non si è limitato al recupero di infortunati e di smarriti. A questi vanno sommate tutte le cooperazioni che abbiamo dato in campo di protezione civile, quindi la consegna pacchi, la consegna farmaci, il raggiungimento frazioni isolate, magari con pochissimi abitanti, tutti soggetti a Covid, e il fatto che da luglio del 2020 è entrato in servizio l'elicottero del 118 con base a Villanova d'Albenga, dove noi a bordo abbiamo un tecnico di elisoccorso. E il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino è speleologico, è sempre in cerca di nuovi volontari. Per chi fosse interessato è possibile consultare il sito www.cnsaliguria.it. Scatterà lunedì prossimo, 18 gennaio, il nuovo orario cadenzato delle linee 75 tra Rapallo e Genova e 76 tra Uscio, Colle Caprile e Genova, entrambe via Recco. Il cadenzamento orario prevede la partenza a minuti fissi ad ogni ora, con una modalità che migliora la fruizione del servizio da parte dei passeggeri. In particolare dal capolinea di Recco le partenze saranno fissate ogni ora al minuto 00 e al minuto 30. E' nato oggi il coordinamento Fridays for Future Liguria, annunciando il ritorno in piazza per chiedere una maggiore attenzione sui temi della crisi climatica da parte della classe politica. In particolare in occasione del Consiglio regionale del 19 gennaio prossimo, che discuterà di Recovery Fund, il coordinamento chiede una destinazione di risorse maggiore rispetto al 5,4% previsto per la transizione ecologica. E lei vi ha perso una delle figure di riferimento storiche per il paese. Mancata Anna Maria Solari, popolarmente conosciuta come Nitta, per decenni aveva gestito insieme al marito Genin Sanguinetti la trattoria e il negozio di macelleria sulla celebre piazza del Bocco, luogo di ritrovo per generazioni di leivesi. Nitta era sempre presente anche quando l'attività è passata in gestione alla figlia e al genero. Nonostante l'età, 92 anni, non mancava di partecipare alla vita della parrocchia, soprattutto in occasione della festa patronale in onore di Nostra Signora della Guardia. Lascia i figli, Silvana e Mario, con le rispettive famiglie, i nipoti Linda e Nadia, la sorella Ernestina e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Rufino di Leivi e i familiari le condoglianze da parte di Telepace. E Rapallo invece piange, vanda Bastianelli, volontaria dell'Avo Monte Portofino. La donna è scomparsa all'età di 101 anni. Ha svolto servizio all'ospedale di Rapallo fino al febbraio del 2020, quando aveva già 100 anni. Era la pianziana volontaria Avo d'Italia in servizio. Questa sera a Rosario, 17.30, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Domani alle 16, nella stessa chiesa, sarà celebrato il funerale. Voltiamo decisamente pagina, siamo allo sport con la pallanuoto. Inizia domani una nuova avventura per il Lavagna 90 nel campionato di Serie A2 maschile. Dopo quasi un anno di attesa, i ragazzi di Mister Andrea Martini tornano in vasca col desiderio di superare un tempo storico difficile come quello che si sta vivendo. Il match nella piscina del Parco Tiguglio sarà a porte chiuse, ma avrà trasmesso via streaming. Il debutto della Lavagna sarà alle 18 contro il Camogli. Sentiamo. La prima buona notizia è che si torna a giocare. È una notizia importante perché avevamo tutti bisogno di ritrovare il piacere anche delle cose come può essere una partita ufficiale che ha un sapore diverso che dei singoli allenamenti magari svolti anche in maniera individuale. Quindi grazie a Dio siamo ai nastri di partenza. Come vi siete preparati a questo incontro? La prima sarà con il Camogli. Ci siamo allenati al meglio. Abbiamo fatto il massimo che era possibile in questo momento di difficoltà, dove ovviamente Lavagna ha fatto i massimi sforzi a livello societario per permettere di mantenere aperto l'impianto, per permettere gli allenamenti agli agonisti. Ed è stato veramente una cosa bellissima perché ho visto riempire la vita di tanti ragazzi che altrimenti sarebbe stata ovviamente la vita difficile dei vari lockdown. Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete per questo campionato? Gli obiettivi sono sicuramente quelli di raggiungere al più presto la salvezza. Quest'anno peraltro la formula del campionato è un po' diversa. È un campionato più corto ovviamente. Il nostro girone è composto ovviamente da squadre Liguri. Poi la fase invece play-off, play-out si andrà a mischiare con le altre squadre del normale girone nord. Sicuramente ci sono meno partite, salvarsi è una cosa alla nostra portata. Sono convinto, però dobbiamo guadagnarcelo sul campo perché la squadra è più giovane. Sono cambiati due o tre elementi, quindi comunque sia dobbiamo anche trovare qualcosa nel gioco che arriva dopo tante partite. E non avendone potuto svolgere a causa del Covid, abbiamo soltanto fatto allenamenti individuali, abbiamo anche questa incognita da sfatare o comunque da andare incontro alle difficoltà che verranno in una partita vera. E dunque in bocca al lupo a Lavagna 90 per l'inizio del campionato di A2. È tutto per questa edizione di Tegugli oggi, l'informazione è tornata domani mattina con la nostra rassegna stampa, continua sul nostro sito www.teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il video.